Questo video lo dedico a Massimo che in questo momento è il tubato, probabilmente a Varese e a lui che è stato un mio allievo da 15 anni a questa parte, ci vediamo ogni tanto nei festival e a lui si dedica questo video, è una tecnica di visualizzazione che consente di incamerare il polvere di stelle o polvere di oro dentro le narici da un nato e da un altro, quindi ispirando e ispirando e mentre ispiro questa luce la concentrazione è sempre sul terzo occhio che è qui al centro del petto, esattamente qui e questa concentrazione dovrebbe, il terzo occhio quindi tra le sopracciglia dove stanno appunto l'intersezione gli occhiali e il cuore dovrebbe aiutarci a aumentare la connessione con la nostra parte più eterica, più alta. È chiaro che questa specie di connessione con la nostra anima da questi due punti deve essere il più possibile purificata da tre tipi diciamo di pensieri, uno che siamo leggeri dentro l'amaca, che siamo distesi nell'amaca e possiamo correre col pensiero, dobbiamo rilassarci. Poi a Massimo che ha fatto l'esperienza con me di essere immerso nella vasca con le amache si deve immedesimare come se fosse immerso completamente dentro questo liquido di luce blu questa volta, luce blu e verde che ogni cellula viene a essere rigenerata. mentre facciamo questa respirazione, mentre c'è qualche cosa che deve essere trasformata trasformata da energia diciamo virale a energia positiva. La respirazione quindi porto luce, porto luce nella via respiratorio e quando espiro va concentrata nell'attività diciamo del cuore e dal cuore va in tutte le arterie e se non proprio delle arterie può andare anche nelle spalle, nel sistema linfatico e in tutte quante i gangli. Questa è la respirazione, quindi ispiro luce, espiro dentro il cuore, dentro i gangli e tutto quanto sarà migliore. Buona giornata, buona domenica a te soprattutto Massimo.